Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per lavori un chilometro di coda verso nord tra Vio Compronari Firenze Nord a 11 e Calenzano. Rallentamenti anche in carreggiata opposta tra Vio 1 variante Calenzano. Sempre in A1 coda per traffico verso Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. In A11 coda e attratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con l'A1. Qualche problema in FIPILI per lavori 3 chilometri di coda verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est. In carreggiata opposta coda ad un chilometro tra Ginestra ed Empoli Est. Sempre in FIPILI per traffico rallentamenti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta coda in uscita Scandicci. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per soste irregolari in Piazza Ghiberti, via Paoletti, via Dinopoli e via Benedetto Marcello. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con il Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!